L'Abruzzo è in campagna elettorale, esponenti politici e partiti guardano già il voto per le regionali previsto a marzo 2024. Il portavoce dell'Udc Abruzzo, Gianfranco Giuliante, ribadisce che il partito di Cesa non accetta veti sulle proprie liste. L'Udc in Abruzzo sarà presente in tutte e quattro le province? Assolutamente sì, le liste sono a buon punto e quindi siamo pronti per iniziare il prossimo marzo la campagna elettorale nell'ambito della coalizione del centro-destra. I veti posti in quest'ultimo periodo non sono piaciuti al vostro partito? Non si tratta di fare una discussione sulla possibilità o meno che ci siano cambi casacca, cosa che peraltro in politica è sempre avvenuto, quando del fatto che in alcune circostanze questa accezione di pelosità di quelle che sono le richieste debbano essere rispinte al mittente. Esiste per esempio un problema sollevato dalla stampa che farebbe riferimento all'assessore Campitelli, se la Lega ritiene che il cambio di casacca di Campitelli debba essere censurato può andare al Presidente della Regione, visto che ne ha la forza e la consistenza numerica, e chiedere la sua rimozione. Pensare di chiedere agli altri partiti fra sei mesi che siano i soggetti che debbano sanzionare Campitelli per delle scelte che ha fatto mi sembra che sia fuori luogo. Giulianti, qual è l'obiettivo che può raggiungere l'Udc alle prossime elezioni? L'obiettivo che ci poniamo in termini minimali è quello di raddoppiare la presenza in Consiglio regionale.